Ci sono normali, quindi un infarto sembra improbabile. Facciamo un angiotac per escludere un aneurisma o una sua dissecazione. Dottoressa Altman, te la senti di seguire il caso, visto il vostro rapporto personale? Richard, ne abbiamo parlato. È un accordo pratico, niente di più. Come ti senti? Bene, bene. Bene, bene, bene. La morfina ha fatto effetto, eh? Beh, goditi la sensazione. Ci ho pensato ultimamente, credo di aver capito, sì, perché tutte le tue storie sono andate male. Tanto, tanto male. È ridicolo. E non è colpa tua, è mia. Perché non sono io l'uomo che esce con te. Siamo pronti a iniziare. Aspetta, aspetta. Tu sei mia moglie. La mia moglie sexy. Io sono tuo marito. Facciamolo. Stiamo insieme. Insomma, guardati. Guarda i tuoi occhi. Guardare i tuoi occhi. Io potrei guardare i tuoi occhi per tutta la vita. Guardare i tuoi occhi. E dovecile i tuoi occhi. Ciao. Grazie. Grazie.